What's up guys, bisogno di questo nuovo video! Eccoci qui settimana dopo con il secondo video di 25 cose che non sai sulla storia della pallavolo Allora ho visto che il format della settimana scorsa vi è abbastanza piaciuto Quindi subito subito questa settimana facciamo questo video E poi anche perché l'avevo già preparato, era già scritto e ci sto 10 secondi a farlo perché ho poco tempo E quindi ragazzi il campionato comincia, le partite cominciano Quindi adesso è un pochino più difficile stare dietro ai video Ma comunque ce la voglio fare Ma dove siamo rimasti la volta scorsa? Allora la volta scorsa eravamo rimasti al 1932 L'anno in cui il timeout divenne di un minuto Questa almeno era la venticinquesima cosa che non sapevi dell'ultimo video Quindi adesso ripartiamo dal 1932 a stecca fino ai giorni d'oggi Con altre 25 cose che non sai sulla pallavoce O così o così Boh non lo so, non è che non so i numeri, non so come mi vedete in camera Successivamente al 1932 quindi introdussero la regola Per cui il giocatore che attaccava la palla nell'altro campo Non poteva più muoversi all'infuori del suo campo Finché l'azione non era finita Ovvero finché la palla non era caduta Cioè praticamente tu attacchi, mandi la palla di là però poi non puoi più uscire Cioè devi stare con i piedi dentro il perimetro del tuo campo Cioè non puoi fare un recupero, non puoi fare la rincorsa fuori dal campo Ma forse non si usava Inoltre venne introdotto il fallo di invasione per tocco sulla rete Vi ricordo però che esisteva già l'invasione ma soltanto di campo Quindi quella diciamo al di sotto della rete nella linea che separa i due campi Nel 1938 entrò in gioco il fondamentale del muro Molto importante che rivoluzionò completamente la pallavolo ad opera dei ciecoslovacchi Una piccola parentesi che non c'entra molto con la nostra pallavolo E con la pallavolo di cui stiamo parlando Fu un esperimento cominciato in Italia di una prima pallavolo a tempo Che quindi anziché dover finire diciamo con il raggiungimento dei punti Aveva un tempo come per esempio nel calcio o nel basket Appunto esistevano due set da 20 minuti In cui ovviamente la squadra che totalizzava più punti poteva vincere E nel caso di pareggio, cosa un pochino diciamo improbabile possiamo dire Ma comunque fattibile Si giocava un restante quindi terzo set sempre con la medesima durata Ma uscendo da questa parentesi a partire dal 1942 La palla poté essere toccata con ogni parte del corpo Appunto prima per esempio era fallo toccarla con i piedi La diffusione della pallavolo venne ampliata in maniera molto vasta Grazie a Fischer che permise alla pallavolo di espandersi attraverso la comunicazione in radio Attraverso le radio infatti diffuse il regolamento in più di 80 paesi Nel 1947 venne stabilita l'altezza della reti come la conosciamo oggi Ovvero di 2,43 per la maschile e di 2,24 per la femminile Si parla ovviamente di livello massimo quindi diciamo dalla categoria in su Cioè dalla prima divisione fino alla serie A barra mondiali Ovviamente le parti giovanili e la rete più bassa via via crescendo Nel 1951 invece fu abolito il fallo di invasione aerea sul terzo tocco In quegli anni la pallavolo veniva giocata all'aperto Compresi i campionati mondiali Gli stessi inventori del muro ovvero i ciecoslovacchi Furono anche gli inventori della tecnica per contrastare l'attacco filippino Ovvero il bagger Il gioco della pallavolo per bambini chiamato mini volley Nome con cui tuttora noi lo conosciamo Fu inventato dal professor Bacquet nel 1961 Successivamente nel 1987 venne scritto a Novara Il regolamento per la nuova pallavolo rivolta ancora ai più piccoli La cosiddetta palla rilanciata Siamo passati dal 61 all'87 Questo diciamo per parlare della pallavolo per bambini Ma torniamo ai nostri anni Parlando appunto del 62 In cui il tocco a muro divenne doppio Divenne doppio nel senso che la palla dopo essere stata toccata a muro Poteva essere toccata una nuova volta dallo stesso giocatore Cosa che ovviamente c'è ancora adesso Ma che una volta non era così Si giocava un po' diciamo come il beach volley Anche se a differenza del beach volley Non si poteva prendere la seconda palla Quindi oltre a valere come tocco Non si poteva prendere la palla successiva In quanto appunto tocco In quell'anno venne anche inventata la battuta salto flottante Una palla che per la sua traiettoria imprevedibile Poteva fare gravi danni e li fa tuttora alla ricezione Nei campionati in Bulgaria del 1970 Vennero introdotte le astine ai bordi della rete Per delimitare lo spazio aereo del campo Fu anche molto importante l'adozione dell'attacco in seconda linea Che fu attuata ai mondiali in Messico del 74 Uno strano fondamentale che tuttora però è fallo Portò la Russia nel 1978 A vincere il campionato mondiale Svoltosi in Italia Questo fondamentale venne introdotto Dall'atleta russo Alex Savin Che cominciò a murare la battuta degli avversari Diciamo lasciandoli in uno stato di confusione Perché diciamo si trovavano un po' spiazzati Da questo nuovo fondamentale Ovviamente questo fondamentale ad oggi è fallo Ma questo portò in quell'anno a vincere il mondiale Fondamentale che però poi ovviamente Venne reso impraticabile Quando venne inserito come falloso Nel regolamento per le olimpiadi del 1984 di Los Angeles In quel periodo si iniziò a utilizzare lo schema Del palleggiatore unico Avendo così più uscite d'attacco Ovvero più attaccanti disponibili a cui alzare il pallone Inoltre venne introdotta la battuta al salto Ad opera dei brasiliani Una battuta che simulava l'attacco Ma diciamo fatto in prima persona Alzandosi la palla da soli Quella che conosciamo adesso come salto spin Che poi è diciamo diventato il fondamentale più utilizzato In battuta dagli atleti di livelli massimi ad oggi Ai giochi olimpici del 1988 La FIFB introdusse il tie break nel caso di quinto set Fortunatamente per noi impediti a palleggiare In quegli anni venne anche introdotto alla regola Per cui il fallo di doppia su difesa o su ricezione Non esisteva più Questo appunto permette diciamo uno spostamento Da una ricezione prevalentemente in bagger A una ricezione in palleggio come è ad oggi Soprattutto utilizzata sul salto flotte Appunto giocatori di due metri Non hanno assolutamente problemi a coprire tutto il campo Diciamo partendo dai 3-4 metri Su una battuta salto flotte Perché possono appunto arrivare su ogni pallone Tramite il loro palleggio Una grandissima svolta avvenne solo nel 97 In cui venne reso ufficiale Il ruolo del libero Ovvero un giocatore solitamente più basso E più veloce quindi E anche più tecnico Che sostituisce il centrale nel giro dietro Dopo la battuta Questo giocatore appunto ha il compito Di essere diciamo la parte più tecnica forse della squadra E non può né attaccare né battere Né ovviamente entrare in prima linea Nel momento in cui entra in prima linea Lo stesso sostituisce il centrale Come ben sappiamo Questo aiutò molto i giocatori anche più bassi A poter giocare campionati di leve altissime Poi più bassi Se poi andate a vedere i centrali di serie A Sono comunque sul 1,85 Non è che sono proprio i nanetti Il sistema di punteggio come lo conosciamo noi Cambiò nel 1988 Quando venne adoperato il sistema rally point system Ovvero quel sistema per cui ad ogni azione Corrisponde un punto Cioè a ogni volta che cade la palla Un punto andrà almeno a una delle due squadre Per questo i set però si allungarono da 15 a 25 punti A parte l'eventuale quinto set Che rimase nel tie break a 15 punti Infine l'ultima delle 50 cose che non sai Sulla palla a volo È che infine nel 2009 Venne reso ufficiale anche il ruolo Del secondo libero finalmente E inoltre tre anni dopo venne utilizzato Per la prima volta al mondo in Italia Il video check Ovvero quella soluzione arbitrale Che serve attraverso un video Attraverso l'elettronica A rivedere l'azione Per capire nel caso di affidamento del punto Dubbio di chi effettivamente è il punto Quella un po' che potremmo chiamare moviola Quindi rivedere il pallone dove va Successivamente è stato anche sostituito Comunque affiancato dall'occhio di Falco Ovvero un sistema diciamo più Elaborato dal computer In cui non si vede proprio la palla Cioè l'azione stessa Ma una simulazione del computer Del movimento del pallone In questo modo l'Italia ha portato La palla a volo a un livello ancora più alto Diciamo limitando ancora di più Quelli che potrebbero essere gli errori arbitrali Scrivete nei commenti qualcosa che conoscete E perché no anche qualcosa in più Che magari io non sapevo A proposito vi lascio un documento Vi lascio un link qua sotto in descrizione Se mi ricordo Del documento da cui potete andare a leggere Diciamo tutta questa serie di storie della palla a volo Ovvero il documento da cui io mi sono documentato Documento documento documentato Troppi documentato Comunque se ve lo volete andare a leggere Molto interessante C'è qualcosina che ancora non ho detto E cos'altro Potete trovare tante immagini Mi fa piacere dirvelo Perché ovviamente io sto utilizzando fonti Che non ho scritto io E' giusto anche condividere un pochino Questa Come si può dire Questo lavoro Niente ragazzi Il primo video d'Italia Sulla storia della palla a volo E' questo Magari un giorno non lo faremo meglio Analizzando in maniera differente le cose E non per forza appunti Come 50 cose che non sai Eccetera eccetera Ma è il primo video in Italia Quindi ragazzi Spero vi sia piaciuto E non so che altro dirvi Direi soltanto che ci possiamo vedere Al prossimo video Probabilmente prossima settimana Sempre lunedì Alle 14 Ciao Ciao Ciao